Buongiorno a tutti, benvenuti alla vigilia di Torres Cesena in programma domani. Partiamo con le domande, vi chiedo di aspettare il microfono. Grazie. Buongiorno. Buongiorno, mister. Finalmente, finalmente Torres Cesena. Loro l'aspettavano da 3-4 mesi come l'occasione per raggiungervi. Invece ci sono 19 punti di stacco, quindi è andata così. Ecco, cosa ti aspetti naturalmente e in subordine? Hai mai pensato che davvero la Torres potesse in qualche maniera costituire un ostacolo fino alla fine? Ma sicuramente non ci aspettavamo che fosse la nostra rivale principale per la corsa al campionato. Hanno fatto un campionato importante, bello. È stata una bella sfida. A noi piacciono le sfide. Lavoriamo anche per quello. Fino a un certo punto la Torres è riuscita a tenere il nostro passo facendo anche dei risultati importanti. Poi il divario è aumentato e l'aspetto psicologico ha fatto la differenza. La resistenza mentale che ha avuto la nostra squadra ha fatto poi la differenza. Buongiorno mister. Buongiorno. Durante tutto il cesenario, rimanendo sulla Torres, è vero che il divario è ampio, però la Torres manca un punto per avere la certezza di secondo posto e il cesenario è dimostrato di non volere lasciare niente alle avversarie. Che partita ti aspetti domani? Per noi il campionato non è finito ancora. Abbiamo ancora due partite di campionato, la Supercoppa, quindi dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto. Pensare partita dopo partita, fare la nostra prestazione, crescere sempre. La cosa che mi soddisfa di più in questo momento è che questi ragazzi stanno crescendo ancora. La dimostrazione è stata il primo tempo di lunedì con la Reganatese dove dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista dell'occupazione degli spazi, dell'attacco agli spazi, forse è stata una delle migliori partite. Questo ha significato che questa squadra è sempre sul pezzo e vuole continuare a fare quello che ha fatto fino ad oggi. Leoni Teleromagna, ecco mister, rispetto agli assenti di lunedì con la Reganatese qualcuno ha recuperato? Silvestri si è allenato ieri e oggi con la squadra, Cristian ancora no e Giovannini neanche. No, non ci sono allenati con la squadra. Quindi Cristian non sale sull'aereo, non lo porti? Invece Silvestri si? Sì. Ecco, a proposito della Torres e del duello, a tuo avviso dove si è deciso? Nel senso, considerando che è l'unica squadra che ancora non avete battuto, poi dovete ancora giocare una partita, ci mancherebbe, e anche questo sarebbe un record, credo al quale possiate ambire, guardando un po' la storia del giorno di ritorno, la vera differenza è dove arrivate? Ma la costanza, la costanza di prestazioni, di miglioramento e di rendimento che ha avuto il Cesena e magari la Torres, nonostante abbia fatto un campionato bellissimo, ci può stare che abbia momenti di flessione o magari delle partite, magari che non riesci a vincere, invece il Cesena, la resistenza mentale del Cesena e quello che abbiamo costruito, su cui abbiamo lavorato, ha fatto la differenza, perché la continuità dei risultati e di prestazione avuto il Cesena ha fatto sì che ci fosse questo divario. L'avversario sicuramente che dall'inizio della stagione ti saresti augurato perché per queste caratteristiche che tu stai dicendo probabilmente non era neanche abituata a reggere certo stress, certo confronto, mentre hanno deluso quelle squadre che invece probabilmente per la storia e per come sono costruite avrebbero potuto certamente essere degli avversari di Geno Lunga più incisivi, più difficili e mi riferisco naturalmente a Perugia, a Pescara, alla Spal, cioè alle grandi deludenti di questo campionato. Sì, ma anche la Carrarese che ha fatto dei risultati importanti, soprattutto nel giorno di ritorno, la differenza l'ha fatta il Cesena, non la delusione delle altre, perché forse probabilmente il Perugia, la Spal, qualche altra squadra poteva fare qualcosa in più, ma la differenza l'ha fatta il Cesena. È stato un campionato molto avvincente, una sfida con la Torres bellissima, è stata questa la bellezza di questo campionato. Mister, per quanto riguarda la prossima stagione, è già in programma un incontro con la proprietà o con il direttore Artico per pianificare, oppure tutti i discorsi sono rimandati una volta terminata la Supercoppa? Vedete, ancora mancano due partite di campionato, manca la Supercoppa. Noi abbiamo lavorato sulla lucidità e sulla concentrazione partita dopo partita. Se oggi io o i ragazzi pensassimo diversamente, non saremmo coerenti su quello che abbiamo detto fino ad oggi, quindi bisogna rimanere lucidi, concentrati, perché abbiamo una partita impegnativa domani e ancora obiettivi da raggiungere. Lo dicevi la settimana scorsa, però questo non solo affetto, perché comunque c'è anche quello, ed è chiaramente, immagino, legato anche al successo, però quello che si è creato grazie a quello che avete costruito voi, proprio anche dal punto di vista tecnico, cioè questa cosa, come fa a farti pensare di andare via? Guarda, è una cosa bellissima quella che si è costruito. Voi l'avvertite da fuori e c'è un impatto molto emozionante. Per me viverla da dentro e andare ogni giorno al campo, vederli divertire, vederli migliorare, è una soddisfazione incredibile. Ho detto delle cose importanti su questa meravigliosa città, sulle persone meravigliose che ho conosciuto, sulla mia famiglia che si trova bene qua. Quindi il campionato ancora non è finito, il lavoro non è terminato, bisogna essere lucidi e concentrati su quello che è la partita di domani, perché abbiamo costruito il nostro percorso, la nostra identità, la nostra mentalità, pensando partita dopo partita e settimana dopo settimana. Bene, concordo. Come si batte la Torres? Perché vai là naturalmente per vincere. Stai attento, attento, perché Fissnaller fa sempre i gol al Cesena. Ma la Torres ha dimostrato di avere una precisa identità. Molto che si avvicina alla nostra. Forse un po' più diretto di noi il loro gioco. hanno nel reparto avanzato calciatori che hanno fatto, hanno nelle corde gol, spunto, uno contro uno, il ribaltamento dell'azione. È una bella sfida questa, per poter crescere ancora, perché io ho detto anche ai ragazzi che da qui al 19 aprile incontreremo forse le squadre più forti dei gironi e del nostro campionato e sarà un test importante per crescere ancora e capire cosa vogliamo fare e dove vogliamo arrivare. Grazie.